Visita del generale di corpo d'armata Riccardo Galletta, comandante interregionale dei Carabinieri, al comando provinciale dell'arma di Caltanissetta. Appena giunto nel capoluogo, il generale Galletta, che ha già ricoperto l'incarico di comandante della Legione Sicilia per più di tre anni, tra il 2015 e il 2018, è stato ricevuto dal prefetto Chiara Armenia, con la quale si è trattenuto per discutere dell'attività svolta dall'arma e della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia. Il generale ha poi incontrato i carabinieri del comando provinciale nei locali della caserma Guccione per tracciare un bilancio dell'attività svolta dal corpo nel Nisseno, con particolare attenzione alle inchieste Icarime e Chimera, con le quali si è fatta luce rispettivamente sull'attività di un gruppo criminale nigeriano che gestiva lo spaccio nel centro storico di Caltanissetta e sulle dinamiche mafiose del clan mazzarinese Stigiaro dei San Filippo. Il comandante Galletta si è successivamente recato a Palazzo di Giustizia, dove ha incontrato il presidente della Corte d'Appello Maria Grazia Vagliasindi, il procuratore generale facente funzioni Antonino Patti, il presidente del Tribunale Daniele Marraffa e il procuratore capo Salvatore De Luca.